Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Va avanti la protesta dei sindaci abruzzesi per contestare il progetto del raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma che in particolare su alcuni territori come quelli di Manopello, Chietiscalo e soprattutto San Giovanni Teatino avrebbe un effetto impattante, dividendo letteralmente in questo caso il paese in due tronconi non comunicanti. Sottoposta ora al vaglio governativo la proposta del sindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente che dopo aver consultato staff di esperti che ne garantiscono la fattibilità in occasione della visita in Abruzzo del vicepremiere Antonio Tajani ha presentato un dossier che propone una soluzione per garantire il raddoppio ferroviario in modo indolore un raddoppio per certi versi decisivo che al di là delle proteste dimezzerebbe i tempi di percorrenza di un percorso che al momento è lungo e accidentato con a volte anche quattro ore indispensabili per collegare il capoluogo pescarese con la capitale. La proposta presentata dal sindaco prevede un interramento della ferrovia nei territori più penalizzati con l'aggravio dei costi che andrebbe a ricadere sui fondi del PNRR in parte già disponibili. Pregherò lui e tutti quelli che avranno la voglia, la volontà, il piacere, l'onore di difenderci quello che oggi è il pericolo, il problema ferrovia. Un raddoppio che sì ci vuole ma un raddoppio fatto in modo diverso. Così sarà la distruzione per il nostro territorio e così come per tutto il territorio, i territori attraversati da questa linea ferrata che in qualche modo sta andando avanti e vuole andare avanti. C'è un progetto diverso, un progetto dove chiediamo l'interramento delle linee ferrata, un interramento che permetterà di vivere e non di essere distrutti. San Giovanni di Atino non vuole il muro di Berlino 2, noi diciamo no alle barriere.